Importante aggiornamento su Temptation Island. Contrariamente a quanto si era compreso fino a poco tempo fa, il programma di Filippo Bisciglia avrà una fine differente. E questa informazione non farà piacere a parecchi telespettatori, che quindi si stavano preparando a ben altro. Ma dovranno accettare questa decisione, visto che ormai dovrebbe essere definitiva. Il sito Novella 2000 ha fatto il punto della situazione su Temptation Island e si è soffermato anche sulla fine. Finora sono state trasmesse tre puntate, mentre la quarta andrà in onda giovedì 18 luglio. All'appello mancano complessivamente sei appuntamenti, ma c'è un dettaglio che ora è stato chiarito maggiormente e che potrebbe provocare dei malumori. Finora l'unica coppia che ha abbandonato Temptation Island è quella composta da Christian e Ludovica, infatti il loro falò di confronto è stato fallimentare e sono usciti da single. La fine del programma di Canale 5 è più vicina del previsto, stando alle ultime indiscrezioni. Anche perché per quanto concerne gli ultimi due appuntamenti, è stata fatta una scelta ben precisa. Temptation Island durerà meno del previsto. Non significa che saranno eliminati degli appuntamenti, ma le ultime due puntate saranno trasmesse la stessa settimana. In particolare mercoledì 24 e giovedì 25 luglio. Questo significa, come spiegato da Novella 2000, che Bisciglia e i concorrenti non saranno protagonisti in TV nel mese di agosto e i telespettatori sono tristi per questo. Ma Temptation mancherà dal palinsesto Mediaset soltanto per un mese, infatti a settembre tornerà ancora come annunciato ad inizio luglio. A settembre Temptation Island raddoppia. Per partecipare alla prossima edizione iscrivetevi su wittit.it o chiamatelo 063721721.